ok ok allora ciao a tutti innanzitutto questo video serve per due cose ringraziamento di un utente che mi ha portato delle cose clamorose e per raccontarvi un prodotto in particolare che mi ha portato ed è clamoroso è un prodotto che voi avete sempre avuto in casa da qualche parte ma non in questa versione innanzitutto dovete sapere che giuseppe e farò anche il cognome papalardo e suo figlio edoardo mi hanno mandato un pacco mi ha chiesto l'indirizzo e mi hanno inviato un pacco con all'interno delle sorprese in sostanza e ci erano diverse cose tra le quali questa è pasta di mandorle io ingrasserò mi dispiace per tutta l'italia ma i miei dolci tipici che adoro in italia sono pasta di mandorle e il cannolo siciliano comunque detto questo mi ha regalato una serie di cose tra cui anche una lettera scritta con la macchina da scrivere valentine che è qualcosa di clamoroso anche da tenere in mano è fantastico e poi mi ha regalato una penna ma non una penna qualsiasi questa vediamo se si vede è una penna bic ok una penna bic ma c'è qualcosa di strano perché questa è una penna bic interamente in alluminio ma non è alluminio cromato è proprio un blocco di alluminio ok innanzitutto partiamo dalla scatola la scatola è completamente con un materiale riciclato ed è in fsc quando leggete la dicitura fsc significa che la carta utilizzata è stata l'albero che sto abbattuto è stato trattato in modo tale che il terreno da qui hanno tolto l'albero hanno reimmesso ripiantato un altro albero quindi fatto nel totale rispetto dell'ambiente inoltre all'interno che si trova una penna già pronta per l'uso e ha un particolare questo che è il colore con il quale scrive la penna poi cliccando qui voi potete togliere il il pennino diciamo come le classiche bic degli anni 50 che ancora oggi sono così e sempre all'interno della scatola trovate il refill quindi altre due altri due elementi ora questa un'idea clamorosa innanzitutto come è stato realizzato questo oggetto questo oggetto è in pressofusione è una pressofusione di alluminio dopodiché è stata fatta un'anodizzazione per quello motivo proprio l'anodizzazione perché l'anodizzazione ti crea l'ossido di alluminio sulla superficie e una superficie che ha contatto con le dita ed ha contatto con delle sostanze che possono rovinare il materiale stesso fare l'anodizzazione è la cosa migliore del mondo in più c'è un particolare incredibile che è il segno della bic quindi il logo bic è fatto con l'incisione laser ok dettaglio non da poco inoltre il tappino il tappino questo è l'unica cosa in plastica il tappo è stato realizzato in plastica con un colore molto molto simile al corpo e da un certo peso si sente proprio è una penna un po più pesante delle classiche penne ma gli dà un'importanza veramente clamorosa era un prodotto che non avevo mai mai visto nella mia vita e la prima volta l'ho vista grazie a grazie a giuseppe e a suo figlio che voglio ringraziare proprio per per questa sorpresa è stato qualcosa di inaspettato sapevo che mi avrebbero portato mi hanno mandato un regalo non pensavo che fosse così così bello così interessante e in più vabbè io ci sono anche altre cose all'interno è tipo questo oggetto che appenderò in casa e ditemi voi che cos'è me lo sono fatto spiegare apposta è qualcosa di veramente veramente bello e lo appendo e giuseppe ricordati lo appendo in caso perché nella mia casa non siamo tanto superstiziosi ma non si sa mai e infatti qualcosa c'è appeso e qualche segno lo facciamo e poi lui lo sapeva io sono appassionato dei dylan dog da qualche mese me li sto praticamente leggendo tutti quindi piccole scorse su quello che mi è arrivato e su questa questa è veramente clamorosa questo è un regalo pazzesco ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciate un like iscrivetevi al mio canale magari vi mando vi mando qualche informazione in più su questo prodotto ma credetemi è qualcosa di incredibile poi non ho finito l'elenco in realtà di quello che mi ha regalato giuseppe suo figlio ho anche un dado tattile molto molto interessante fatto a mano e grazie mille veramente grazie grazie mille tutto qui se vi è piaciuto questo video lasciate un like e se vi è piaciuta questa penna scrivetemi ditemi qualsiasi cosa questo prodotto credimi è clamoroso e mi ha davvero davvero lasciato stupito tutto qui giuseppe grazie mille eduardo grazie mille alla prossima ciao iscriviti al canale grazie mille